e uniformato sistematicamente e costantemente. Grazie. Sulle spalle dell'Unione Europea grava un compito gigantesco per il rilancio del sistema produttivo e un compito gigantesco per il futuro dei giovani, metà della quale la cosiddetta generazione Europa viaggia, lavora, è inclusa, ma metà rischia di essere la generazione perduta dell'Europa o meno la generazione precaria. E di fronte a questo noi ci presentiamo con un bilancio che è assolutamente inadeguato, che toglie ogni credibilità a tutti i nostri programmi, Europa 2020, Cosme e via dicendo. Se la Commissione europea, che non è fatta di sognatori utopistici, propone 80 miliardi per Horizon, significa che ci vuole un'iniezione di innovazione. E io mi chiedo con quale incoscienza noi spuntiamo quest'arma. Abbiamo bisogno di più, perché tagliare il bilancio significa lavorare contro la crescita e contro l'occupazione, lo dica signora Ministro e i suoi colleghi. E dica anche che la storia non finisce qui, non finisce a Bruxelles il 7 e l'8 febbraio. La storia passa poi da questo Parlamento, lo dicono i trattati, ma lo dice la politica, perché noi siamo la legittimazione democratica più alta dell'Europa e non rinunceremo a fare la nostra parte. Grazie. La parola all'onorevole Iarocca. Signor Presidente, cari colleghi, il potenziale delle politiche di inclusione sociale per la competitività, la crescita, purtroppo sono state trascurate. Grazie.